al grande fratello con Ligio Pirla di Nos Parfum di Pino Maiuli in bagno basta telefonino Federica si si sono in bagno eh si è quasi alle 10 scusa in cucina sono due che ci vanno dalla mattina non si può neanche andare a far colazione al mattino ascolta sei passata da casa mia? si si la chiave è sotto lo zerbino ah l'hai trovata preoccupato? sto facendo la noccia si ma la buono si sente e mi sto ancora insaponando via pronto Federica stavi dicendo sei entrati in casa? ah il gatto era morto eh no? e a 10 giorni senza mangiare era ancora vivo ah addivittura non è che me lo puoi tenere tu ah sei allergica? eh ascolta non la fai così fallo sparire ma come? si si al mio piano sono sportellino per i sacchi no? ma poverica si alza al massimo lo prendi e lo butti dentro ah oh 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 Grazie.